ciao a tutti sono Mario Dragos mi trovo nel concessionario di Argento Moto dove come ben vedete ho appena acquistato questo giocattolino qui che mi hanno detto che va da solo ma tutto da vedere e partiamo dagli inizi dove ho iniziato circa dieci anni fa neanche tanto tempo fa perché poi la passione nasce non si sa quando si nasce ma quando arriva arriva e ho iniziato con 600 mi ricordo benissimo con 600 che era un cancello però per prenderci la mano e ho fatto la scelta giusta ai tempi in giro di due tre anni ho deciso poi di passare il 1000 ho trovato un ricordo ancora benissimo che il 1000 dei tempi 2007 un'onda e non era facile a guidare con la moto lì piano piano ci ho preso la mano dalla strada sono andato ho deciso di andare a provare in pista dove mi sono trovato benissimo da subito e da lì poi ho continuato a fare questo del percorso della pista nel percorso degli anni ho cambiato due tre moto e ovviamente prendendoci la mano le moto cambiano fanno delle moto più più semplici veloci perché è una moto veloce e non tanto semplice sta di fatto che acquistando il bmw 2016 qualche anno fa una moto molto impegnativa non facile da guidare che mi avevano già avvertito però un po di allenamento ci ho preso la mano mi sono mi sono divertito con quella molto lì ahimè è uscita nel 2018 la panigale v4s 2023 che vedete qui ma la 2018 è una bella moto l'ha fatta veramente bene ho avuto l'occasione di provarla in pista dove non dico mi sono innamorato ma mi è piaciuta un casino e ha detto vabbè aspettiamo qualche anno vediamo se sarò in grado di acquistarla e avrò la possibilità di averla è arrivato il momento come ben vedete che è di avere questa questo giocattolino qua sta di fatto che la pista non è facile sembra facile ma non è per niente facile bisogna dedicarsi come tutte le cose ahimè con una moto nuova dovrei essere più facilitato che non sarà semplice prenderci la mano e ovviamente la moto originale facciamo i piccoli step piccoli passi la proviamo in pista e da lì vediamo cosa cosa faglia questa moto qui argento moto con lo staff che ha con i suoi meccanici l'officina sono in grado di soddisfare le richieste del cliente con me non sarà facile scherzi a parte no e sono veramente bravi fabio fabione quello chiamo io che ormai siamo quasi amici quasi ma li voglio bene ma anche lui non c'è sia nascosto andiamo a cercarlo e la proviamo in pista dopodiché vediamo come procedere a piccoli passi faremo dei lavori ovviamente io ho le mie richieste ognuno ha le sue richieste però con la pazienza giusta con i tempi giusti una moto del genere si può trasformare in una moto veloce e performante che lo è già di su di base ahimè speriamo in bene dai moto argento è specializzata nella vendita di moto super sportive naked ed oltre alle vendite offriamo una vasta gamma di servizi per coccolare e migliorare la tua moto moto arte vendita moto museo assistance dedication performance engineering technical race suspension premium deluxe tutto questo è moto argento amore passione dedizione sempre tutto questo è stato un paese delle cose spazioni che non sia tenere umani attrattare la tua vita impegnosti